Presentata in Consiglio Comunale la variazione al piano triennale delle opere pubbliche, la delibera è stata approvata con 19 voti favorevoli e 7 contrari. La variazione prevalentemente per quanto riguarda l'annualità 2017, dove abbiamo inserito tutti quegli interventi che abbiamo proposto partecipando al bando per il recupero delle aree degradate. Questo bando se dovesse andare a buon fine come sembra ci dovrebbe dare un buon respiro in quanto dovrebbero arrivare circa 17 milioni di euro che contribuirebbero quindi a mettere a posto, a darci un po' di forza per mettere a posto tutte quelle aree che sono a sud della ferrovia. Quindi per intendersi l'area che va dal parco di Viarno fino alla zona di Pescaiola fino addirittura alla rotatore di via Fiorentina. Respinti invece due emendamenti sulla previsione del sottopasso a Giovi e del centro sociale e sportivo di Frassinetto presentati dai banchi dell'opposizione. E sempre dai banchi dell'opposizione è stata lamentata una mancanza di attenzione sulle periferie e sulle frazioni. Noi pensiamo che l'attenzione dell'amministrazione con fondi delle periferie deve essere maggiore. Abbiamo provato anche a presentare degli emendamenti per rinserire alcuni interventi tipo il sottopasso di ferroviario di Borgo a Giovi e il centro di aggregazione e sportivo di Frassinetto ma la maggioranza non ha tenuto conto delle nostre indicazioni. L'assessore Camurini ci ha elencato tutta una serie di piccoli interventi, modesti interventi che sono stati fatti ma non sono quelli risolutivi per le periferie quindi noi ci batteremo e saremo a fianco degli abitanti delle periferie per far valere i propri diritti.